Ciao a tutti. Amanti della musica e fan di Emma Marrone. Oggi siamo qui per raccontarvi di una grande festa che ha coinvolto alcuni dei colleghi più famosi della cantante in occasione del lancio del suo nuovo disco, Souvenir. Ma prima di entrare nei dettagli, se sei nuovo qui, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie musicali. Emma Marrone. La talentuosa cantante Salentina. Ha attraversato un periodo difficile con la perdita di suo padre. Rosario. Poco più di un anno fa. Questo dolore ha profondamente segnato la sua vita. Ma è stato anche un'ispirazione per il suo nuovo album, Souvenir. Emma aspettava con trepidazione la mezzanotte per brindare all'uscita di questo lavoro che porta nel cuore. Per celebrare questo momento speciale. A Milano si è tenuta una grande festa con colleghi famosi che hanno condiviso con Emma il lancio del suo nuovo disco. Tra gli ospiti c'erano volti noti come Annalisa. Con cui Emma condivide un passato ad amici. Quando entrambe facevano parte della scuola di Maria De Filippi nel 2012. Durante la festa. Emma ha stappato una bottiglia sulla grande terrazza e ha urlato di gioia. Momentaneamente. La malinconia e i ricordi dolorosi sono stati messi da parte grazie ai nove brani dell'album. Uno dei quali dedicato al suo amato papà. Oltre ad Annalisa. Ci sono stati altri colleghi famosi presenti al party. Tra cui Amy Schilla. Lazza. Tony F. E altri rapper che infiammano il pubblico dei giovani. Emma Marrone. Con il suo carattere ironico e pugliese. Ha condiviso la sua gioia e riconoscenza con tutti i presenti. Emma Marrone ha dichiarato che. Souvenir. È stato un viaggio interiore in cui ha affrontato i suoi pensieri più profondi senza paura del giudizio altrui. Nel disco. La cantante racconta dolori e momenti difficili. Ma alla fine prevale un messaggio di ottimismo. È un modo per accettare i propri fallimenti in una società che spesso ci mette sotto pressione per essere sempre i migliori. E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo album?